Embriaghi! Sì! Cesso! Ragazzi andiamo a mangiare uno scorpione! Kumiko sai che torno in Giappone il 29 di marzo? Faccio il tour, faccio il tour in Giappone C'è il tour in Giappone? C'è il tour in Giappone C'è il tour in Giappone Se volete venire in Giappone con me in Mangaka96 dal 29 marzo Cliccate sul link in descrizione o nel primo commento Spero che riusciamo a andarci tutti insieme, grazie ancora Pazzita Primo pasto di oggi che è la colazione Dove mancate un po' di pollo? No, anzompiera Banana coi cuori, questa è buonissima Tokyo Banana Heart Ine Lo mangiamo? No, anzompiera Lasciamo la nostra Mary a lavorare E a giocare con queste meravigliose palle di Natale Divertiti e noi intanto andiamo a? Andiamo? Cina 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 Non andiamo mica in Cina 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 Perché ha la propria forma di G come potete vedere Prima volta per Kumiko che si beve un bel cocco A presto A presto Se avessi Ora comunque non è meglio Poi non lo so E' mi piace Non so Perchè? 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 ragazzi ci siamo fatti anche delle fotine se volete vederlo seguiteci sui nostri instagram ve li lascio qui stiamo per mangiare il green curry con Kubiko buon appetito buon appetito buon appetito adesso andiamo a bere il tè con le bubble con le bolle qui bubble tea col mango ragazzi sto facendo anche la live quindi se non ve le volete perdere queste live meravigliose con Kumiko dovete iscrivervi al mio instagram guardate come siamo tecnologici adesso Kumiko prova il bubble tea guardate che bella ciao la ragazza con cui hai fatto la foto a Tokyo ad aprile durante il Japo tour con Luca Adam ah ciao Celeste mi ricordo se lo ricordo anche Kumiko perché quel giorno poi c'era anche Kumiko è super vedete si è stupita di sta cosa la nostra Kumiko buon appetito buono? 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 assaggiamo questo mango assaggiamo questo mango all'estero è impazzita intanto che Kumiko e Mary sono in piscina io sono in palestra che palle che palle è divertente? è divertente è divertente ecco qua per la gioia di tutti i maschi abbiamo sexy Kumiko sexy Kumiko stiamo andando a Kaosan Road qua siamo nella strada Kaosan Road Kaosan Road ciao a tutti assaggiamo dai ragazzi andiamo a mangiare uno scorpione stiamo per mangiare uno scorpione ma non puoi assaggiare il ragno? 200? which one is better? 400 400? ah no adesso è immagine beh ma lo assaggia anche te no? si ok me lo assaggiamo gnocca di bambù assaggia lui lui come la sai? come la sai? come la sai? e ti metti? 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 non l'ha mangiato oggi si eh? buona no? si? si? i passati no Ragazzi buon Natale, buon Natale, buon Natale, buon Natale, a Natale, a Natale si può dare di più per noi e non abbiamo ancora bevuto! Natale! Kappai! 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 Oishii? Embriaga! Embriaga! Cosa c'è? Cosa c'è? Batsu? Sta facendo una croce con i capelli, la nostra Kumiko ubriaca! Adesso Kumiko va a cercare il cesso! Abbiamo deciso di andare a mangiare la pizza! I piatti che si possono mangiare solo da? Embriaghi! Embriaghi! Embriaghi? Si! Un po' embriaghi, un po' no! Kumiko, Kumiko, Kumiko non deve più bere in vita sua! Kumiko, Kumiko cazzo fai? E' impazzita! Qualcuno la fermi? L'amo! L'amo! Ok bene! Ragazzi è arrivata la pizza hawaiana per la nostra Kumiko embriaga! Pizza! Pizza! Pizza hawaiana! La tua preferita! Ma questa non è sei pezzi, ce l'ha portata da osso comunque! Ah, un sesso! Ah, è vero! Lo puoi riportare? No! Kumiko fai un? Cesso! 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 Il cesso! Il cesso! Un appetito! E' buonissima! E' buono qui? E' buona! E' buona! Com'è? Ma Nicolo Cao! Ora! Provano anch'io adesso! Non è male! No? Ma tu l'hai tolta l'ananas! Eh vabbè! Cosa di pizza! Vabbè ragazzi direi che finisce qui... Basta! Finisce qui il video perché qua è meglio se non riprendo più Kumiko! Spero che questo video vi abbia divertito! Noi ci vediamo alla prossima puntata! Ciao! 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 Ragazzi questa sera andiamo anche noi in questo bar di Una Notte da Leoni 2! Al sessantaquantresimo piano! La pizza con hawaiana! Itadakimasu! Buon appetito! Buon appetito! Ciao!